Bella ragazzi io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video extra, extra di Fortnite Perché questo video è perché mi trovate così tanto gasato Ragazzi nella live precedente è successo di tutto e di più Innanzitutto qualcosa lì sulla centrale è cambiato E eccoveli qui Seconda fase dell'evento ben tre oggetti si sono trasformati La sedia d'oro, lo scaffale e poi la stampante Ma non è finita qui ragazzi, non è finita assolutamente qui Perché come ho fatto vedere in live ho ricevuto e non so ancora se posso condividerlo con voi Ma sicuramente vi farò sapere ulteriori cose nel video mattutino di domani Il numero dove risponde la voce questa volta finalmente ragazzi in italiano degli agenti Questi che vedete sono tutti gli audio messaggi presenti in ogni nazione Brasile, America, Polonia eccetera Ma signori miei chiamiamo il numero ufficiale italiano Let's go, vediamo, vediamo che cosa rispondono Ascoltiamo per bene che cosa hanno da dirci Alziamo il volume Non risponde raga Eccolo Ragazzi il gattino non manca mai Agenti delle ombre compromessi Qui non capisco, agenti delle ombre Il reclutamento dell'agenzia è cominciato E qui ragazzi potremmo ricollegarci a ciò che sta succedendo su Discord E di tutti coloro che in questo momento stanno diventando agenti dorati condividendo la propria teoria Concludo dicendo buona caccia agenti Ma una cosa del genere ragazzi miei l'abbiamo già sentita Perché questo messaggio in italiano è molto simile se non quasi uguale a quello americano Dove questo infatti diceva L'attività di reclutamento degli agenti è stato un successo Buona caccia agenti Per poi concludere l'operazione piattaforma petrolifera iniziata Per chi ancora non lo sapesse poi Quest'operazione piattaforma petrolifera ragazzi Non è altro che un nome in codice per formare la parola oro E oro non è altro che il nome di questa skin presente nei file di Fortnite Esattamente si chiamerà così Sempre oggi raga abbiamo ricevuto il primo teaser Mancano ben tre giorni alla nuova stagione Ed eccovelo qui Il teaser presenta la solita mano che oramai stiamo vedendo da due giorni Più la scritta trasmissione intercettata La descrizione del teaser invece contiene qualcosa che deve essere decifrato Ha una sorta di codice a barre e non so che cosa voglia significare Per il momento concludiamo così ragazzi Ci becchiamo domattina con il video mattudino Sono felice di avervi portato una chiamata a livello italiano Finalmente ragazzi ci hanno calcolato Sono contentissimo di ciò Mi raccomando tantissimi like per questo breve video E soprattutto ragazzi se ancora non siete iscritti Iscrivetevi per rimanere aggiornati su ogni tipo di news che riguarderà questo evento Noi ci becchiamo più tardi Un salutone da Martex Sì a becchiamo Sì a becchiamo